L'Università di Camerino orienta anche in estate. Dall'8 luglio al 7 agosto e dal 17 agosto alla 4 settembre è attiva sia in presenza che in modalità telematica l'iniziativa Porte Aperte in Unicam Estate 2020, promossa dall'Ufficio Orientamento proprio nel periodo in cui gli studenti che devono scegliere il percorso universitario hanno bisogno di avere maggiori informazioni e chiarire eventuali dubbi. Consultando il calendario disponibile nel sito orientamento.unicam.it è possibile prenotare l'appuntamento per avere tutte le informazioni sui servizi, sulle strutture e sui corsi di lauree attivati dalle 5 scuole di Ateneo. Architettura e design, bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, scienze e tecnologie. Il 15, 16 e 17 luglio sarà inoltre possibile seguire l'iniziativa Unicam Open Day. Anche questa proposta sia in modalità telematica che in presenza in tutte le sedi Unicam. Unicam Open Day sarà proposto esclusivamente in presenza per le sedi di Camerino ed Ascoli Piceno anche lunedì 3 agosto. Il 20 luglio per la sede di Camerino e il 22 luglio per la sede di Ascoli ad essere aperti e visitabili saranno invece i laboratori. Per tutte le informazioni dettagliate e per prenotarsi è possibile consultare il sito www.orientamento.unicam.it Grazie. Grazie.